ma voi state ancora mangiando no ma io non sopporto più sta situazione è dal 24 che si mangia qua già faccio più madonna santa ma scuola perché dobbiamo concentrarci questi tre giorni a mangiare di tutto e di più c'è noi tra il 24 25 26 mangiamo per un mese no ma ragazzi ma non e gli strufogli e la crema al mascarpone col pandoro il panettone assaggio anche il panettone la lasagna il cardo e carciofi fritti e basta perché poi è tutta roba buonissima ragazzi è buonissimo io la mangerei tutta quanta però non puoi perché non può ne mangi una mezza forchettata di ognuno o se no se mangi normalmente arrivi alla fine di questi tre giorni che hai preso 10 kg gli altri giorni non è che uno ti vieta di fare i carciofi fritti la lasagna ci sono anche gli altri giorni non riesco a capire questa cosa qua va bene ragazzi allora ieri non ci siamo visti appunto perché era natale perciò voglio ribadire a tutti quanti i miei migliori auguri e spero che abbiate passato natale bello sereno in famiglia come ho fatto io sicuramente avrete mangiato come ho fatto io e niente niente ragazzi benvenuti bentornati qua sul canale dal vostro amico nace nella casa del pane balloon anzi nella casa del panettone balloon dai visto che siamo in tema natalizio nella casa del panettone balloon sì ragazzi però qua io non voglio dire ma qua ci stanno facendo il lavaggio del cervello e sì perché te lo ti vogliono inculcare perché poi una cosa se continuano i media le radio le tv i giornalisti i giornali a dire sempre che è così e così e così e così anche se poi non è così tutti cominci che è come dicono loro e questo è quello che è quello che stanno facendo è quello che stanno facendo al milan quello è continuo loro continuano a dire cioè devono comprare il difensore il difensore perché senza perché manca chi è il difensore lo fanno apposta lo fanno apposta perché loro vogliono che sia così ma non è così ma non è così l'ho detto nell'altro video lo ribadisco oggi ne parleremo poi perché ragazzi non si può continuare ad andare avanti su col lato lì intanto gli altri hanno fatto colpi perché ci sono già squadre che hanno ufficializzato qualche colpo insomma c'è un po di roba di cui parlare di mercato ovviamente perché non avendo giocato partite parleremo di quello fatemi ricordare una cosa ragazzi iscrivetevi al canale dai iscrivetevi al canale attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi fatelo vi ringrazio di cuore per tutti quelli che si sono iscritti mi raccomando nei commenti fatemi sapere la vostra così io vi rispondo e interagiamo e bene bene grazie di cuore ragazzi poi è tutto gratuito se volete mettere un bel like sostenere il canale condividere il video sono tutte cose che fanno aiutano a crescere questo canale bene detto questo ragazzi io volevo arrivare innanzitutto appunto l'atalanta ha fatto già un acquisto ufficializzato boga boga o boga non so come si chiama vabbè comunque il giocatore del sassuolo che a me devo essere sicuro mi piace moltissimo il milan secondo me non ne ha bisogno di un giocatore del genere perché da quel lato lì comunque noi siamo abbastanza coperti perché lui gioca sulla sinistra e noi di là abbiamo comunque rebic leao insomma siamo eventualmente se manca qualcuno puoi adattare qualcuno cioè non puoi prendere un giocatore come boga per per non farlo giocare no però comunque detto questo per quanto riguarda l'atalanta è un grande acquisto è un bel colpo l'atalanta è una squadra già solida è vista appuntellata ha fatto il suo acquisto boga ma boga è tanta roba in questa atalanta ragazzi inizia che forse proprio da quel lato lì era un pochettino carente l'atalanta dal lato sinistra questo è un ottimo acquisto bene bene hanno hanno operato bene subito dove dove pensavano ci fosse ci fosse una carenza hanno subito e hanno fatto un acquisto di tutto rispetto vedo vedremo poi come andrà e invece noi ragazzi ripeto quasi ci si fossilizza sulla difesa perché chi ha finito la stagione allora c'è assolutissimamente bisogno del difensore il difensore e continuare a parlare di questo appunto oscura il fatto che noi abbiamo più bisogno in avanti che il difensore poi dopo uno se c'è i soldi può comprare lì lì e lì però siccome così non è bisogna ponderare le cose in difesa è un giocatore che ti mancherà per tutto l'anno chi è che sei infortunato è vero che è insostituibile ma può anche essere insostituibile se fai un grande acquisto perché non è detto che poi dopo renda come chiar perciò comunque il chiar non ce l'hai è un sostituto di chiar non è scontato che tu lo trovi giusto i difensori centrali ce li hai però perché ne hai due che sono romagnoli e tomori che comunque erano quelli che si giravano la titolarità insieme a chiar e poi hai gabbia che è vero che quest'anno non ha fatto un grande campionato un grande campionato quelle poche apparizioni non ha fatto bene però ragazzi sempre lì un giocatore deve giocare è stato messo lì all'ultimo non sapeva neanche doveva giocare contro la fiorentina all'ultimo si è dovuto si è dovuto preparare per la partita insomma ci può stare l'errore che ha fatto io mi ricordo l'anno scorso gabbie nelle poche apparizioni che aveva fatto non aveva fatto male perciò secondo me se se gli si dà qualche altra opportunità adesso con la coppa italia e quant'altro può 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 fare bene perché comunque gabbie è una tua risorsa è un tuo patrimonio ed è giusto che che debba giocare e poi tutti quanti anch'io vorrei brenner del torino ma non si può non si può in questo momento non si può cioè io se ho due soldini vado dove veramente il problema c'è adesso ci arriviamo perché secondo me il problema è più avanti perché poi a parte gabbie abbiamo comunque anche calulu che eventualmente è un adattato ma quando ha giocato da centrale aveva fatto bene anche l'anno scorso aveva fatto molto bene cioè tu hai due titolari fissi una riserva che è di ruolo e un'altra è un altro che può adattarsi che comunque un difensore è un terzino che si può adattare in centro io tirerei con una competizione avanti così questo è il mio parere perché dove veramente tu hai il problema non sulla sinistra perché una volta che rientrano leao e rebice sei super a posto neanche sulla destra perché avendo sale maker e messias sei super a posto in avanti a ibrahim shijiru e per quest'anno sei super a posto dove manca veramente tanto un'alternativa è sulla tre quarti ragazzi è inutile che si continua ad andare avanti a dire il difensore è sulla tre quarti perché a me diaz va benissimo quando diaz gioca e gioca come a inizio anno fa paura però purtroppo non hai il ricambio in questo momento diaz non è in condizione e ne risenti proprio lì hai dovuto adattare che sì insomma hai dovuto adattare che sì perciò vuol dire che il problema è lì tu non hai l'alternativa a brain diaz perché crunic è vero che è un jolly che puoi mettere a destra sinistra e mezzo però una volta ogni tanto può andare bene perché crunic quello è perciò io maldini e daniel maldini è ancora troppo fragile continuo a sentire che ha grandissimi colpi per l'amore di dio potrà anche essere vero però in questo momento è ancora troppo troppo gracile se c'hai già brain diaz che lì quando gioca certe partite con che sono fisiche non ce la fa daniel maldini ancora un pochettino un pochettino fra giocolato è lì che secondo me perché poi anche a centrocampo ragazzi è vero che ora è la coppa d'africa è stata confermata e infatti i giocatori sono partiti e va bene e ti mancheranno bene a ser e che sì però ragazzi adesso bisogna capire se tutti e due arriveranno fino in fondo perché se dovessero arrivare fino in fondo e va bene ma alla fine sostanzialmente ti possono mancare per tre partite due tre partite tutte le partite a una partita alla settimana non puoi sopperire con quelli che hai devi per forza spendere i soldi che poi magari te non c'entro capisco che ora che si adatte tutto fanno a te per tornare quelli della coppa d'africa poi bisogna vedere se arrivano fino in fondo perché poi magari se vengono eliminate prima manco sono tre partite cioè manco sono fino a fine gennaio inizio febbraio perciò io la coppa d'africa sì però fino a un certo punto poi uno pensa gli strascichi che può portare la coppa d'africa magari il fatto che rientrano magari il covid la cosa però quello è un punto di domanda lo sappiamo tutti quanti anche adesso ho visto teo hernandez al mare castiglieco per i cazzi suoi con gli amici insomma può succedere anche perché vanno in giro a farsi i cazzi loro perciò sostanzialmente non è solo la coppa d'africa che può creare quel problema perciò io anche a centrocampo lascerei così com'è tu hai tonali baccaiocco perché baccaiocco continua insistere anche se ha fatto veramente male però non può perdere quella non può diventare scarsissimo tutto un tratto cioè baccaiocco nel milan di due anni fa aveva fatto grandi cose nel napoli dell'anno scorso un po meno però comunque qualcosa di più di quest'anno aveva fatto a me basta che torni a essere quel quel baccaiocco del napoli dell'anno scorso quando ha giocato un po' di partite a fila ed è rientrato in condizione se c'è quello va bene per questo mese qua l'hai fatto carburare un pochettino ora lui comunque in condizione rientrato deve soltanto a stare un po' più attento secondo me con tonali perché non è poi con benassare ma è con tonali è diverso e sarà diverso il baccaiocco con tonali se per quanto mi riguarda poi comunque hai allora lissi crunici che è il suo ruolo è il centrocampista che può che può fare qualcosa sono quelle due tre partite io la vedo così ragazzi se tu hai solo uno la possibilità di comprare un giocatore io opterei per per il trequartista opterei per quello perché è lì che veramente viene a mancare perché oramai tu hai una competizione ragazzi con una competizione anche in attacco va bene così poi anch'io vorrei braovic però in questo momento ai girù e i bremoci che non sono infortunati perciò l'unico infortunio è pellegri rientrerà vabbè ma quello non lo considero più tono avendo loro due che si alternano io ripeto è lì sulla trequarti io mi fossilizzo sulla trequarti perché è lì che veramente che veramente il milan deve invece continuano a parlare no difensore il difensore i suggetti dei giornali continuano contro perché ce lo vogliono inculcarne la tesa devono far cambiare idea e io non la cambio idea io sono convinto che sulla trequarti ragazzi perciò fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate se secondo voi hanno ragione gli altri a dire che ci vuole il difensore allora è vero che io se fosse se avessi soldi comprerei un difensore un centrocampista un trequartista in attaccante ma siccome non si può hai solo una possibilità dove la mettereste voi fatemelo sapere nei commenti se secondo voi hanno ragione loro comprare il difensore o se è meglio optare per la trequarti bene dai ragazzi ci siamo fatto un'altra chiacchierata ieri mi siete mancati devo essere sincero perciò vi ancora vi riauguro un buon natale delle buone feste e ci vediamo magari stasera dai vediamo un po vediamo un po ragazzi bene se vi è piaciuto il video vi chiedo un bel like e mi raccomando sostenete il canale condividendole e come dico sempre io ragazzi ciao